Benvenuti a Taco Bell, siamo in questo unboxing, ho preso Stodore Locos per 5$ e 87$. Andiamo subito nella fase di unboxing. So let's make the saltame a little bit. So let's make the salt. 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 Grazie a tutti. Adesso passiamo al burrito cucurino. Un pollo salsa verde. Un pollo di nozze. Sosso. Fire Sosso. Un lettere dei dei messi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.